Ciao a tutti da Emanuele Rauk e benvenuti al nuovo Chiedi Chi Era di Mr. Graucio Romano in collaborazione come sempre con ImproveArts.net Questo Chiedi Chi Era di questa settimana è dedicato ad uno dei miei registi preferiti a quanto ho capito anche uno dei vostri registi preferiti che avete, come posso dire, la follia di seguirmi in questi video Billy Wilder, chi era Billy Wilder? Billy Wilder è noto come il re della commedia americana classica un regista polacco nato nel 1906 e morto nel 2002 a Beverly Hills, Los Angeles e che è diventato celebre appunto per alcune grandi commedie come Qualcuno piace caldo, ma anche per drammi che hanno fatto la storia del cinema come Viale del Tramonto ha vinto 8 Oscar, di cui 1 alla carriera e insomma il film più premiato in questo senso è L'Appartamento che ne vinse mi pare 5, di cui 3 ha lo stesso Wilder Perché parlare di Billy Wilder? Perché Billy Wilder merita una pagina intera, un video intero dedicato ai grandi della storia del cinema Ecco, perché Billy Wilder è appunto, come dicevamo, noto per questa sua straordinaria forza nella commedia In realtà la sua carriera, possiamo dire, è divisa nettamente in due parti c'è una prima parte di carriera, lui comincia a lavorare in Europa e l'abbandona insieme a molti altri, insieme a Lubitsch, insieme a Michael Curtis, insieme a Fritz Lang l'abbandona per gli Stati Uniti quando la minaccia nazista comincia a farsi sempre più pesante Se ne vanno in America e creano sostanzialmente l'età dell'oro del cinema americano la creano gli stranieri quasi, più John Ford e altri, ma una grossa, un grosso zoccolo duro di questi momenti storici del cinema vengono gli stranieri Billy Wilder studia da Lubitsch ma in realtà la prima parte della sua carriera si dedica a temi più drammatici c'è una prima parte molto drammatica inventando o comunque facendo parte del primo grande movimento del cinema noir americano con film come La Fiamma del Peccato e poi piano piano si sposterà verso la commedia in realtà questo non deve far pensare che il cinema di Billy Wilder con gli anni si fosse appiattito, si fosse venduto commercialmente o fosse insomma diventato troppo vicino al pubblico e meno a ciò che voleva dire come regista, come autore visto che comunque molto spesso scriveva, quasi sempre scriveva le sceneggiature dei suoi film anzi, il modo di utilizzare la commedia è assolutamente paradigmatico di come si usa la commedia cioè si usa il tono giocoso, scherzoso, ironico ed umoristico si arriva allo spettatore con più facilità tramite storie divertenti ma in realtà la grandezza del cinema di Billy Wilder e di Billy Wilder come regista è in questo proprio, nell'aver capito il meccanismo più profondo del cinema classico lui è stato un grande teorico della regia invisibile ossia che è uno dei fondamenti chiave del cinema classico ossia la regia, il modo in cui si scelgono le inquadrature le si montano insieme, si dedicano agli attori non deve essere insistente, non deve farsi notare non deve dare allo spettatore la sensazione che lì ci sia un regista che sta sopra il film e lo controlla fino all'ultimo momento al contrario di Hitchcock seppure in Hitchcock abbiamo visto in un video di questa rubrica non è un difetto secondo Wilder la regia deve essere al totale servizio dello spettatore e della storia perfetto detto questo, il cuore del cinema di Billy Wilder è in come la regia apparentemente invisibile, in realtà perfetta dai tempi, dai meccanismi, dalle dinamiche incredibili lavora sulla sceneggiatura il cinema di Billy Wilder in 50 anni circa di carriera poco meno di 50 anni di carriera è forse il più grande almanacco della storia, della società, del costume, della politica americane e non solo la grandezza di Billy Wilder è quella di aver saputo raccontare tutti i lati più oscuri più particolari, meno comodi alla società americana attraverso il suo cinema che era un cinema o di genere che insomma guardava al thriller, guardava al noir, guardava al cinema d'azione penso a un film come Asso nella manica che racconta il delirio dell'informazione e il meccanismo perverso dei mass media ed è un film degli anni 50, si parlava di mass media negli anni 50 o perlomeno ne parlava Wilder e invece poi con la commedia andare ad affrontare alcuni temi forti e scottanti per la morale il cinema di Billy Wilder è un cinema che se non trasgredisce le regole del cinema appunto, le regole del linguaggio classico trasgredisce e spezza tutte le regole della società tutte le regole della morale nel cinema di Billy Wilder si affrontano i cambiamenti del costume si affronta il travestitismo, la prostituzione in maniera esplicita in maniera forte non per questo in maniera scioccante o disturbante che sarebbe ancora più moralistico anzi, in maniera viva, vitale per far capire allo spettatore che il mondo e anche il modo in cui si intende la morale è estremamente sfaccettato temi sociali più forti come l'alcolismo i mass media e appunto e la morte anche del cinema in Via del Tramonto, ne parleremo fra poco ma anche temi all'apparenza più leggeri che in realtà scavano ancora di più in quelli che sono la psiche di un'intera nazione e quindi siccome è la nazione più rappresentativa dell'immaginario del mondo dell'intero globo dicevamo prostituzione, travestitismo, adulterio, scambi di coppia c'è una quantità di temi e di idee rivoluzionari nel cinema di Billy Wilder che nessuno dei grandi registi rivoluzionari degli anni 60 e degli anni 70 ha mai messo in scena ed è qui la strepitosa grandezza di Billy Wilder oltre al fatto che un regista che padroneggiava il meccanismo cinematografico come pochissimi altri e attraverso questo, attraverso il ritmo, l'intelligenza, le battute memorabili, le scene indimenticabili riusciva a far passare un discorso invece d'autore per rifarsi alla politique des soterra dei francesi fortissimo e tra i più pregnanti del XX secolo quali sono i tre film di Billy Wilder da vedere assolutamente se non ne avete mai visto uno? partiamo da forse il suo film più bello o forse il suo film più famoso comunque Viale del tramonto Sunset Boulevard film che racconta la morte del cinema più o meno che anticipa di dieci anni la morte del cinema classico dello studio system raccontando in realtà la morte del cinema muto Gloria Swanson, questa grandissima diva che è il fantasma del cinema che non c'è più e che invece vorrebbe lottare per esserci tutto costruito come un noir che sconfina nell'horror una storia, uno script indimenticabile e anche una delle poche volte, delle prime volte in cui la regia di Wilder non è invisibile anzi ha carica espressionista e cerca di comunicare allo spettatore in modo molto più forte, molto più diretto di quanto abbia mai fatto secondo film che questo è sicuramente il suo più famoso a qualcuno piace caldo che è probabilmente la più grande commedia americana di sempre e qui c'è tutto quel concetto che dicevamo di travestitismo, scambio di sesso confusione dei generi che anticipa di 30-40 anni un certo tipo di liberazione sessuale in chiave omosessuale una storia che anche qui ha legami con il nero con il noir, con i gangster che però diventa un fuoco di fila di gag di battute, di trovate, di idee e di direzione degli attori che è da manuale Jack Lemmon, Tony Curtis e Marilyn Monroe nell'empirio di chiunque abbia voluto nella propria vita dirigere una commedia a qualcuno piace caldo capolavoro assoluto terzo film probabilmente non è tra i più amati e celebrati ma è uno assolutamente dei miei preferiti uno dei più geniali secondo me di Billy Wilder Baciami Stupido non solo perché non si può fare a meno di non innamorarsi di... ho detto bene insomma vi innamorerete di sicuro di Kim Novak nel ruolo di questa prostituta che viene chiamata da un compositore di musica che da un cantautore diciamo per sedurre un grande cantante che si è fermato nel paesino e vendergli le sue canzoni attraverso la seduzione facendo finta che quella prostituta sia sua moglie e mandando la moglie a fare la prostituta e vabbè poi ci sono tutta una serie di gag di equivoci ecco questa materia che sembra grevissima sembra da cine panettone diventa non solo una riflessione sulla morale, sul costume sulla società dello spettacolo attraverso la società del sesso stiamo parlando neanche di metà anni sessanta quindi per dire la lungimiranza di Wilder ma appunto è tutto anche un discorso su quelle che sono le regole sociali i ruoli sociali la moglie che diventa prostituta la prostituta che diventa moglie il rapporto tra uomo e donne e con una levità con una leggerezza con una poesia e con un romanticismo struggente alla fine che non può farvi alzare in piedi ad applaudire questo è Billy Wilder secondo me sotto vi metto anche un altro grande film di Billy Wilder Avanti l'originale Avanti in italiano è che cosa è successo tra tuo padre e mia madre o insomma viceversa che è tutto ambientato in Italia a Capri o Isco a Capri non mi ricordo bellissimo divertentissimo ed è uno dei film tardi cioè degli ultimi film di Billy Wilder ma con una forza una leggerezza da maestro infinito vi ringrazio ringrazio anche popcordatiffany.com che cura gli audio per i podcast di questa rubrica e non solo anche degli altri video del mio canale vi saluto vi bacio e vi do appuntamento alla prossima settimana sempre con i video di Chi e Di Chi Era apriremo dei minicicli dedicati a periodi della storia del cinema cominciamo con il neorealismo andiamo in ordine cronologico cominciamo con il neorealismo tre registi del neorealismo che verranno affrontati in questo miniciclo ossia Vittorio De Sica Roberto Rossellini e Luca Novescotti cominceremo con Vittorio De Sica ciao a tutti